Seconda gara consecutiva al Motorland di Aragon per il Moto Mondiale, si è accorso il Gran Premio del Teruel così come si corse in Superbike qualche tempo fa Resin Podcast del giorno dopo per quanto riguarda gli sport motoristi, visto che ieri è uscito alle ore 21 quello sulla Formula 1 Ma parliamo della MotoGP perché ancora una volta vince un pilota diverso in categoria regina e di fatto accorcia ancora di più un mondiale che vede Juan Mir al comando Ma la vittoria della gara del Teruel di Aragon è di un pilota italiano del team Yamaha SRT ovvero Franco Morbidelli che è l'unico pilota insieme a Fabio Quartarò, suo compagno di squadra, a vincere più di una gara quest'anno Quartarò ne ha vinte tre e Morbidelli ne ha vinte due Franco Morbidelli ha fatto una gara suntuosa per tutta la domenica, ha approfittato della caduta di Takahaki Nakagami, il Pullman, nelle prime curve della gara del Teruel E poi ha condotto la competizione dall'inizio alla fine resistendo anche agli attacchi e al passo di Alex Rins su Suzuki che poteva evidentemente legittimare ancora una volta un successo Cosa che non è capitata e dunque festeggiamo la seconda vittoria di stagione e di carriera di Franco Morbidelli che dunque sale sul gradino più alto del podio così come possiamo vedere da queste immagini Per l'italo-brasiliano suona Fratelli d'Italia, il nazionale italiano, il podio lo completano evidentemente quelli che sono le due moto più veloci in pista e sicuramente le vetture del momento, anzi le moto meglio Con Rins in seconda posizione e a un certo punto poteva anche vincerla ma poi negli ultimi giri Morbidelli ha fatto una gara suntuosa e ha accelerato il suo passo Terzo è quello che è il leader del mondiale incredibilmente Juan Mir che senza vincere una competizione è ancora in testa al campionato in una stagione del 2020 dove appunto senza quel fenomeno che è Mark Mark seppur decisamente antipatico Effettivamente ha regalato tanto equilibrio e un livellamento delle prestazioni sta a poi vedere se è un livellamento verso l'alto o verso il basso È comunque un podio esemplificativo perché le uniche moto ufficiali sul podio sono quelli in seconda e terza posizione Morbidelli ha una Yamaha clienti addirittura non con gli stessi setup di Quartanaro che invece ha degli aggiornamenti quasi da semi ufficiale più che da semi privata Morbidelli dunque di conseguenza fa una cosa suntuosa, una prestazione incredibile perché con una moto letteralmente inferiore agli altri va a vincere Un gran premio che in realtà togliendo il pilota italo-brasiliano vedrebbe una Yamaha come di fatto seconda barra terza moto in pista E dunque questo esce lunga sulla grande prestazione del pilota italiano che con questa vittoria va a riaprire di fatto un campionato che fino a poco fa non lo vedeva propriamente coinvolto E adesso invece sì perché in 25 punti di distacco quindi ha una vittoria di fatto di vantaggio ci sono 4 piloti 28 se consideriamo anche Andrea Dovizioso ma di lui ne parleremo ovviamente dopo È una gara che ha regalato il secondo successo a Morbidelli lo fa avvicinare più alla terza posizione del mondiale di Maverick Mignanis che ancora una volta ha deluso Hoan Mir si dimostra ancora una volta l'uomo da battere e probabilmente la sua grande costanza sarà probabilmente l'arma che gli altri piloti dovranno battere nelle tre gare rimanenti di questo campionato del mondo E per il resto ci sono tante considerazioni da fare Di certo c'è soltanto una cosa certa ovvero che la Suzuki è la miglior moto in pista al momento e non ci sono rivali in questo momento Suzuki che appunto ha soltanto due moto e ne piazza due sul podio dietro ovviamente a Franco Morbidelli Altre posizioni, quarta posizione per Polizio Espargaro con una KTM che all'improvviso si risveglia Quinto un grandioso Johan Zarco che è l'unico che tiene alta la bandiera della Ducati che oggi veramente ragazzi ha fatto veramente schifo anzi ieri meglio Sesta posizione per Miguel Oliveira con la KTM del team Trek Troyes quindi KTM clienti Settima posizione per Maverick Mignanis che ancora una volta parte davanti e finisce dietro Vignanis è veramente in discesa così come Quartarò, ottavo appunto il pilota francese che era arrivato con le credenziali del nuovo fenomeno Di avrebbe vinto il Mondiale senza Marquez e invece deve lottare contro un pilota che non ha mai vinto una gara ma è molto molto costante E probabilmente di testa più forte del pilota francese Non ha posizione per Iger Lecuola che torna nella top 10, il pilota spagnolo della KTM clienti Team Tektroa E decimo Danilo Petrucci che in realtà sfrutta un po' di incomprensioni nella bagara centrogruppo tra l'Aprilia di Espargaro, Stefan Bradel Anche lo stesso Dovizioso ma comunque non è una prestazione degna della Ducati ufficiale che ancora una volta ha fatto schifo Sicuramente i vincitori di questa gara del Terruel che si è svolta ieri sono due evidentemente Perché a parte Morbidelli che dunque si rilancia in ottica al campionato del mondo anche se con tre gare dalla fine 25 punti forse sono un po' tantini Evidentemente le Suzuki escono ancora una volta rafforzate perché sono le moto migliori in pista da un po' di tempo a questa parte Sono veramente tanto costanti, la terza gara di fila che mettono di fatto due moto sul podio Anzi in realtà tre nelle ultime quattro perché Le Mans non hanno raccolto podi In ogni caso attenzione alle Suzuki che evidentemente sono lanciate più che mai a vincere un campionato del mondo E sarebbe clamoroso e straordinario vedere Juan Mir vincitore perché è un pilota giovanissimo Al secondo anno soltanto in MotoGP, peraltro già campione del mondo in Moto3 qualche anno fa I delusi sicuramente sono le Yamaha perché da di fatto moto che doveva dominare queste gare E da Le Mans anche le due di Aragon sono uscite di fatto con le ossa rotte senza risultati di rilievo E in particolare sia Quartaroro che Vignales hanno fatto di fatto i gamberi finendo nel top 10 Ma nella parte bassa appunto di quest'ultima, ottavo il francese e settimo il pilota spagnolo La delusione incredibile e pazzesca ce l'hanno invece tutte le Ducati in generale Perché ovviamente già in qualificazione le vetture, anzi le moto di Dubai della casa di Bologna Hanno mancato tutte di fatto l'accesso diretto in Q2 e hanno dovuto lottare 4 moto per i due posti della Q2 E poi la gara è stata quello che è stata In particolare il mio pupillo Andrea Dovizioso ha fatto abbastanza schifo Ma perché la Ducati quest'anno è una moto che è lontana parente di quella dell'anno scorso Ancora una volta una qualificazione pessima Relega Dovizioso nelle estreme retrovie della classifica A partire al diciassettesimo fa solo tredicesimo E oggettivamente questo potrebbe essere l'ultimo chiodo da mettere nella bara Prima di consegnare il mondiale agli altri Ma è veramente un peccato come Ducati poteva approfittare tantissimo di un anno senza Mark Marquez E legittimarsi come moto migliore senza il pilota spagnolo E invece ci ritroviamo a parlare di una Ducati che di fatto è la quarta moto in pista Perché Suzuki, Yamaha e direi anche Honda sono davanti Le Ducati diciamo se la giocavano con l'Aprilia che insomma non ha mai niente da chiedere a questo campionato Con altre moto clienti che erano lì po' per sbaglio Insomma effettivamente tutta la Ducati ha fatto una prestazione rivedibile a dir poco Ed è un peccato perché un po' figlia degli errori di gestione dei pilota nel corso del tempo E anche quest'anno soprattutto nella dimostrazione con una moto che ha sofferto La gomma nuova al posteriore si è arrivata a essere una moto più o meno fallimentare Insomma la dice lunga su come quanto la mia Ducati purtroppo abbia cannato clamorosamente Non solo questa gara ma evidentemente tutto il campionato È veramente difficile vincere un titolo del mondo con queste condizioni Dovizzo ha fatto bene soltanto due o tre gare in tutto l'anno E per il resto non di più è da San Marino di fatto che il pilota Forlivese cerca di limitare i danni Per cercare di vincere questo titolo del mondo ma non può vincere il titolo del mondo Con ternicesime posizioni, settime posizioni e così via E vedremo come si comporterà il pilota Forlivese nelle ultime tre gare Permesso che non sono piste propriamente favorevoli alla Ducati Forse Portimao perché c'è il lungo rettilineo ma oramai non è tanto la velocità pura Il marchio di fabbrica della Ducati Il problema in realtà è un altro ovvero la percorrenza in curva Anche Dovizzo all'intervista ha detto che la Ducati è una moto nettamente inferiore In ogni caso è tempo di assegnare i rider del giorno E onestamente visto che tutte le Ducati sono andate male Si distingue di fatto un solo pilota che è quest'uomo Johan Zarco con una Ducati cliente del team Avintia Ha fatto veramente un miracolo perché partiva in prima fine in qualificazione Ha resistito nella top 5 Poteva probabilmente andare un po' più indietro perché le gomme a un certo punto L'avevano abbandonato invece con uno Ducati veramente inferiore Tiene dietro tantissimi piloti anche probabilmente di carattura superiore Certo ha preso di qualche tutela davanti Però comunque una quinta posizione con una moto così tanto inferiore È veramente tanta roba per il pilota francese Che l'anno prossimo sarà sempre in Ducati ma nel team Pramaca Accanto a Hork Martin pilota Moto2 La delusione del giorno in realtà la do alle Yamaha ufficiali Perché sia Quarta da Hork come dicevo prima Sia soprattutto Vignales hanno fatto un percorso simile Quindi partendo davanti sono finiti dietro E non hanno veramente dimostrato di essere la moto da battere in queste piste Anzi hanno preso paga e scoppoli dalla Suzuki Che è veramente quella La moto da battere per la gioia di Davide Brivio E compagnia quindi squadra di fatto tutta italiana Passiamo alla Moto2 Prima di chiudere il Racing Podcast Una campionato Moto2 e Moto3 dove si sono svolte addirittura due doppiette Perché sia i Moto2 che i Moto3 hanno vinto le stesse partite settimana scorsa In particolare in Moto2 c'è il cambio di leadership del mondiale L'ennesimo di questo campionato molto equilibrato Vince il britannico Sam Lowes E per lui suona God Save The Queen Sam Lowes ha fatto una gara sontuosa sulla Calix del team Mark VDS Ha vinto con un'eternità di vantaggio Sugli altri avversari non c'era veramente partita Terza vittoria consecutiva per l'inglese Quinto podio nelle ultime cinque gare Veramente fermatelo Questo perché altrimenti parleremo ancora di un titolo britannico Nelle categorie inferiori dopo quello di Danny Kent nel 2015 E per il modo di guidare di Sam Lowes Per il talento dimostrato in queste gare Probabilmente è lui il pilota più in forma È lui il go-to guy di questo mondiale Un po' per il rammarico degli altri italiani In particolare lo Sky Racing Team Che ancora una volta ha buttato via l'occasione più importante Di questo campionato Bezzecchi matematicamente è quasi fuori Marini se continua così rimarrà fuori la prossima gara Se la giocano il bestie di Rimini Enea Bastenini che fa comunque un gran podio Terzo E appunto Sam Lowes che è veramente l'uomo da battere Il podio invece della Moto2 lo completa Fabri Gian Antonio con la speed up Moto italiana dunque per lui Grande prestazione ancora del pilota romano E dunque con questa prestazione Il pilota numero 21 va in decima posizione Nel campionato del mondo Moto2 In particolare invece in Moto3 Anche qui si è vista una doppietta La vediamo qui Ha un emasiato per aver trionfato settimana scorsa Trionfa anche in questa settimana E dunque ancora una volta Suona la marcia reale di Nazionale Spagnolo È un campionato Moto3 Che vede ancora Albert Arenas In prima posizione Ma il pilota spagnolo come vedete Ad Aragona ha raccolto veramente molto poco Perché nonostante essere stato davanti Spesso per tutta la gara alla fine è stato infilocchiato Di fatto dagli altri piloti Ha perso due volate su due A sto giro l'ha perso da due giapponesi A Yumu Sasaki su KTM Tech 3 Primo podio in carriera per il giapponese Per Kaito Toba Che torna sul podio dopo aver fatto Appunto una vittoria l'anno scorso In Qatar Quindi due giapponesi sul podio E uno spagnolo davanti Per un podio praticamente atipico E in Moto3 Un podio che ancora una volta avvicina Masia Probabilmente nelle posizioni che contano in questo mondiale Arenas e Ugura Sembrano i due leader Diciamo più in difficoltà Ne possono approfittare sicuramente Celestino Vietti e Haume Masia Che sono i piloti più vicini Saranno due gare di Valeno Sia veramente toste E speriamo che si possa arrivare a Portimao Ancora con i mondiali da decidere Con evidentemente quattro piloti Che se la possono giocare Non escludere neanche Né Erbolino né McFee Ma per loro probabilmente Si tratta solo della matematica esclusione Nella prossima gara Che sarà appunto a Valencia Non per il Gran Premio della comunità valenziana Ma per il Gran Premio di Europa Intanto il Racing Podcast finisce qui Vi lascio ancora una volta Con la classifica della MotoGP Con la seconda vittoria in carriera di Franco Morbidelli Podio come adole Suzuki con Alex Rins E Juan Mir La classifica del campionato è sempre più corta Con quattro piloti in 25 punti Fatemi sapere cosa ne pensate Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E il saluto da parte di Matthew Torger Ci vediamo al prossimo video del canale Che parlerà delle World Series MLB Che stanno per finire Se dovesse andare a gara 7 Ci vedremo mercoledì o giovedì Per vedere chi sarà il campione del baseball americano Grazie a tutti